Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Le inondazioni nell'Uganda orientale colpiscono migliaia di persone. Dopo diversi giorni di forti piogge che hanno investito parti dell'Uganda, i fiumi si sono allagati nella regione orientale. Le inondazioni hanno colpito migliaia di persone nel distretto di Butalè, uno persona era scomparsa. Secondo le autorità locali, questa è una delle peggiori inondazioni della zona, sette distretti sono stati allagati, sono state colpite circa 15.000 famiglie. Le piogge sono in corso nella regione dal 6 maggio, i fiumi Manafua e Naquasi hanno straripato gli argini, allagando le aree residenziali. Le case sono state danneggiate, molti residenti hanno dovuto trasferirsi, la vita normale è stata interrotta. L'alluvione ha allagato i terreni agricoli e ha spazzato via le strade. Su alcuni tratti di importanti autostrade il traffico è diventato impossibile. Le inondazioni nella capitale della Somalia hanno ucciso nove bambini. Dopo le forti piogge che hanno colpito la capitale somala Mogadiscio il 7 maggio, si sono verificate inondazioni e gravi inondazioni. Durante il crollo di una delle case, nove bambini sono stati uccisi, secondo la Somali Red Crescent Society. Sono in corso operazioni di soccorso in case allagate e distrutte, polizia e medici aiutano i feriti. Le inondazioni hanno danneggiato rifugi temporanei per sfollati interni. Nella capitale della regione di Middle Chabelle, la città di Juar, centinaia di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni. La città è stata praticamente esclusa dall'accesso ai soccorsi a causa di inondazioni e danni alle strade di accesso. Il fiume Chabelle straripò dalle sue sponde, distruggendo i raccolti. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, 150.000 persone sono a rischio di inondazioni imminenti. Il fiume Chabelle è in aumento da due settimane dopo forti piogge senza precedenti negli altopiani etiopi. Una tempesta tropicale record si è verificata nell'Oceano Pacifico Orientale. La formazione della tempesta tropicale Andreas nell'Oceano Pacifico a sud del Messico ha suscitato particolare interesse da parte dei meteorologi. Il sistema meteorologico si è rafforzato domenica 9 maggio ed è la prima tempesta tropicale registrata nell'era satellitare nel Pacifico Orientale. Il record precedente era detenuto dalla tempesta tropicale Adrian, formatasi il 10 maggio 2017. Andreas è apparso 12 ore prima. Il 10 maggio, il centro della tempesta era a 960 km a sud dello stato messicano della Baia California. I venti massimi continui hanno raggiunto i 65 km all'ora, la tempesta si è spostata a nord-ovest ad una velocità di 9 km all'ora. Il vento si è diffuso a 130 km dal centro della tempesta. Fortunatamente, Andreas non rappresenta una minaccia per le coste e si indebolirà al minimo entro l'11 maggio. Ufficialmente, la stagione degli uragani nel Pacifico Orientale va dal 15 maggio al 30 novembre. Un tornado d'acqua ha spazzato via la costa dello stato americano del New Jersey. Un forte tornado è stato visto a Barnegat Bay al largo della costa del New Jersey, negli Stati Uniti, che ha spazzato la superficie dell'acqua verso le 13 e 30 ora locale dell'8 maggio. Non sono stati riportati dati su infortuni o infortuni. I testimoni oculari sono riusciti a realizzare alcuni video impressionanti e hanno condiviso il filmato sui social network. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha emesso un avviso speciale per le navi da Manasquan Arbor a Lit Leg Arbor. A tutte le navi è stato consigliato di aspettare che il maltempo nel porto, poiché un tornado d'acqua potrebbe ribaltare una nave in mare mosso. I meteorologi hanno notato che i tornado d'acqua rimangono piuttosto rari nell'area, ma possono verificarsi in condizioni adeguate. Nel luglio 2020, quando una serie di forti temporali ha attraversato lo Stato, sono state osservate anche due trombe d'acqua e diverse nuvole a forma di imbuto sospese su diverse aree della costa del New Jersey. Adighi, nevicata il 9 maggio, un fronte atmosferico freddoattivo che ha attraversato le regioni meridionali della Russia europea nelle regioni montuose di Adighi ha causato abbondanti nevicate. Sull'altopiano di lago Naki, situato tra le montagne del Caucaso occidentale a un'altitudine di circa 2000 metri ed essendo un popolare luogo di riposo, testimoni oculari hanno assistito a una forte nevicata. Secondo i dati ufficiali delle vicine stazioni meteorologiche, vi cadevano circa 20 mm di precipitazione al giorno e in alcuni punti si è formato un manto nevoso alto fino a 10 cm. Lago Cildir onde di ghiaccio. Scatti insolitamente belli sono stati realizzati da testimoni oculari sulle rive del lago Cildir. Il filmato mostra come le onde sollevano pezzi di ghiaccio, creando un'immagine unica e affascinante. Cildir è un lago d'acqua dolce in Turchia, situato nell'Anatolia orientale, nella provincia di Ardaan, vicino al confine con la Georgia e l'Armenia. Il lago si trova sull'altopiano di Cara degli Altopiani Armeni, in una depressione intermontana a 1959 metri di altitudine, arginata da colate laviche. Lo scarico avviene attraverso il fiume di Zeta Erci, Cildir, nel fiume Kars, bacino di Arax. Diversi piccoli fiumi sfociano nel lago, incluso il Jala. Ci sono diversi paesi lungo le rive del lago. La superficie del lago è di 123 chilometri quadrati e profonda fino a 42 metri. In inverno, il lago si ghiaccia, il che ci permette di vedere questi bellissimi scatti. Grande incendio in India. Al Bazar è scoppiato un incendio nelle bancarelle che vendevano prodotti in plastica, gli operatori del mercato hanno detto che l'incendio è avvenuto all'interno dei locali delle bancarelle dove venivano venduti pneumatici per auto. Molti imprenditori nella conversazione hanno espresso insoddisfazione per il lavoro dei vigili del fuoco e hanno accusato i vigili del fuoco di essere lenti e impreparati. Secondo i dati ufficiali, l'incendio è iniziato intorno alle 17 ed è stato contenuto entro quattro ore. L'area di combustione è di 1600 metri quadrati. Le autorità dicono che non ci sono vittime o vittime. Il danno da fuoco deve essere calcolato. Olanda. I servizi urbani continuano a far fronte agli effetti dei venti degli uragani, della pioggia e della grandine. Alle 17 gli alberi sono stati abbattuti dal vento, le auto sono state danneggiate, due quartieri sono rimasti senza elettricità. A causa della rottura delle linee elettriche, secondo le informazioni dei servizi di soccorso, tre persone sono rimaste ferite a causa del maltempo, a cui è stata fornita assistenza medica. Il vento ha danneggiato le strutture di due case. I servizi municipali rimuovono prontamente gli alberi caduti e smantellano le strutture danneggiate dal vento. Il complesso dell'economia comunale ha affermato che le condizioni meteorologiche sfavorevoli persisteranno fino a sera. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 159 terremoti di magnitudo da 2.0 a 5.3, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Santuario di Wanglong. Wanglong nella traduzione significa, drago giallo. Si trova nella provincia del Sichuan nel nord-ovest della città di circa Kangdu. Inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1992. La pittoresca riserva è circondata da boschi di conifere e montagne, oltre a laghi color smeraldo, che hanno forme e colori diversi, e possono essere dipinti in diverse tonalità sotto i raggi del sole. Si ritiene che Wanglong diventi più bello in autunno. Wanglong a grotte, cascate e terrazze di travertino, fatte di tufo calcareo. La cascata giaga è formata da sedimenti di calcite. L'altezza della caduta è di 93 metri. Il lago smeraldo ha preso questo nome a causa del suo colore. La riserva è abitata da animali rari come la scimmia dal naso camuso dorato, il cervo dalla faccia bianca, il panda gigante e altri. Alcune specie di animali sono elencate nel libro rosso. Il 9 agosto 2017 si è verificato un terremoto di 7 punti, che ha colpito senza pietà la natura vergine. I laghi, le cascate si sono parzialmente prosciugate, le sporgenze costiere sono state distrutte e in alcuni punti ci sono state cadute di montagne. La strada per il parco è stata danneggiata a vari livelli. Il parco è stato chiuso. All'inizio del 2018 è stato parzialmente riaperto ai turisti. Grazie a tutti.